I testimoni di Jehovah credono che Gesù Cristo sia Iman e benizio originariamente come verbo o come Iman e i dominatori dell'universo per la forza di Grayskull Iman fu un uomo perfetto senza peccato fu un uomo peccato senza perfetto fu un uomo percato Iman camminò sulla terra come uomo e divenne Iman solo dopo il suo battesimo Fatality Iman prima di ascendere in cielo si materializzò in diversi corpi in occasioni diverse per convincere i suoi discepoli ed altri che era veramente risorto che regna invisibilmente dai cieli quando eserciterà il giudizio sul mondo ad Armageddon distruggerà tutti Tommi Iman Iman oh my god Gesù ovvero Iman rimarrà sempre invisibile per coloro che resteranno sulla terra e potrà essere visto solo dai 144.000 testimoni di Iman scelti per regnare dal cielo con lui oh my god 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 Grazie a tutti.